Frittelle di ricotta con miele aromatizzato Le frittelle di ricotta con miele aromatizzato sono una golosa variante della classica frittata di ricotta. Veloci da preparare, sono un'idea sfiziosa per concludere un pranzo di febbraio. Ecco come prepararle. 1 chilo di ricotta di pecora 3 uova 50 g di farina 00 2 cucchiai di zucchero 1 mezzo bustina di lievito per dolci 1 bicchiere di latte Olio extravergine di oliva per friggere 100 g di miele di tarassaco 1 cucchiaio di cannella in polvere Iniziamo a preparare le frittelle di ricotta con miele aromatizzato lavando la ricotta e scolandola bene. A questo punto aggiungiamo le uova, lo zucchero, la farina e il lievito setacciati e mescoliamo per amalgamare bene gli ingredienti. A questo punto aggiungiamo il latte e amalgamiamo il tutto per ottenere un composto omogeneo. Una volta ottenuto il composto, iniziamo a friggere le frittelle. Versiamo un cucchiaio di olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e, quando sarà ben caldo, con un cucchiaio, versiamo l'impasto di ricotta e formiamo delle frittelle di circa 8 cm di diametro. Quando saranno ben dorate da entrambi i lati, trasferiamole su un piatto con della carta assorbente. In un pentolino prepariamo il miele aromatizzato. Mettiamo sul fuoco il miele di tarassaco e, quando sarà caldo, aggiungiamo la cannella in polvere. Mescoliamo bene il tutto, in modo da amalgamare bene gli ingredienti, e versiamo il miele aromatizzato ottenuto sulle frittelle di ricotta. Lasciamo raffreddare e serviamo le frittelle di ricotta con miele aromatizzato. Grazie a tutti.